Anche un'azienda eccellente regionale, Cagliese Corridoria, agli ordini del signore Scarpetti di San Benedetto, con i giudati del signore Vittari di Ancona, le coppeglie di inferno scenderanno in campo le seguenti portofioni. Corridoria, Maglia Verde, Carnevali, Torrenti, Stagioni, Igoi Pilaia, Moroni, Ferrari, Di Giorgio a parte, Cappetti, Andrea, Bocchere, D'Ancona, Gattini, Gatti, Siroti, Tentella, Daniele, Tentella, Donato, L'Astanti, Magliotti, Cappelli, Alecchio, Cagliese, Caccio, Maglia Giallo, Rossa, Soledetto, Vandadori, Prado,oretta, Magliotti, Magliotti, Cappelli, McCечina, Marchi, Painelli, hide, Spiro, Capelli, Capello, Don�aufizzo, L'Astanti, Passaggio, Piaele, Rossa, Giovanni, Ciccianzi, Macellini, Bocchia, Lille, Marchiotti, Palla, Mario e Scatena, A santo i tuoi divertimento. Guardi, poi il giuro che diventate prima. la guarda linea sto gioco esistono 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 Grazie. 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 Non ce l'ha fatta, dai. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.